Parlare di sicurezza, qui siamo nella casa della sicurezza in edilizia. Basti pensare che la scuola edile è stata un'idea insieme alle casse edili, le casse edili hanno più di cent'anni di storia, nata dalle associazioni datoriali insieme alle associazioni sindacali, perciò siamo stati precursori e è nata proprio per fare assistenza e sicurezza in un settore come quello edile che è ancora adesso purtroppo insieme all'agricoltura uno dei settori che ha il maggior numero di infortuni e infortuni mortali. Perciò qui siamo dove si seminano per i ragazzi della scuola le basi perché tengano un domani in azienda comportamenti sicuri, ma si continua a formare operatori edili in tutto quello che riguarda salute e sicurezza sul lavoro perché non si parla solo di sicurezza ma anche di salute. L'edilizia sta andando incontro a un cambiamento epocale anche in quello che sono i materiali che si usano, sempre più materiali chimici, sempre più materiali che hanno delle pericolosità intrinseche, magari non subito come infortunio ma a livello salute ci troveremo negli anni.